Andare oltre la restanza per dirla con le parole dell'antropologo Vito Tetti e nel concreto adottare provvedimenti che possano combattere lo spopolamento delle aree interne della Calabria. Ma in questa direzione il bando presentato questa mattina a Catanzaro, una dotazione di 5 milioni di euro recuperati dai fondi nazionali per la montagna, un segnale lo definisce l'assessore Gallo per rivitalizzare i piccoli centri. Un bando che darà almeno 20 mila euro a coloro i quali nei comuni fino a 3 mila abitanti decideranno di trasferire la propria residenza e di iniziare un'attività imprenditoriale che naturalmente dovrà trovarsi in connessione con le esigenze del comune. E poi per gli anziani o per chi fa lavoro agile la possibilità di avere 5 mila euro, una tantum all'anno per trasferire la propria residenza in questi comuni. I territori coglieranno l'opportunità, basta per riportare la vita nei tanti paesi in cui regna il silenzio, certo è un tentativo e molto dipenderà dall'accoglienza, anzi dalla risposta al bando. Si tratta di un bando sperimentale, se dovesse andare molto bene e credo che il Presidente Occiuto voglia investire anche risorse dell'FSE.